E' un nuovo video in cui andremo a fare un'altra sfida Perché le sfide vi stanno piacendo parecchie Quindi andiamo subito a fare le sfide La sfida di oggi consiste nel andare a fare una partita in crogiolo come in tutte le sfide D'altronde però con una particolarità ovviamente Perché se no sarebbe troppo facile no? Infatti oggi andremo a giocare in crogiolo senza mirare Quindi appunto andremo a fare hollinoscope Speriamo di non abbassarci troppo il ratio e direi di vederci direttamente in partita Al terra delle fiamme abbiamo degli spazi abbastanza stretti Quindi forse possiamo fare un ratio lontanamente decente Vai c'è uno dritto qua davanti a me Uscite fuori piccoli pampi Oh 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 l'ho ucciso l'ho ucciso Troppo forte proprio lui Aiuto paura Sì troppo forte proprio loro No sono morto Ti ho coperto amico ti ho coperto Per ora c'ho lato di tre Ovviamente io di due Sì troppo forte Aspetta 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 Gli dico bene Persone aiuto Mi fanno paura le persone Se ho fatto una kill 5 minuti Potresti vincere come potresti perdere Il ragazzo di urre Il ragazzo di urre Dove sto stupero burracco Vabbè Su queste kill è così Sì tu sei morto Si impari Ma chi è che mi spara? Oh non c'era un buco là dietro Non c'è un po' aiutami Mi sto sparando Bravo ti c'è una spada Se non uno diete 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 Invece si Proprio lui Dove il suo scoglio Sì hai visto coppocorpo Oh quanto forte Ah c'è andrà un dietro No questo ma No guarda No guarda Cidrici 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 Non si chiudica Non si chiudica Non si chiudica Non si chiudica C'è mai Se non si chiudica Aspetta Dove si è Piccoli bambini Dopo il pisto nero 3 Non lo preso Sì Ma preso Ma sono fortissimo Ma sono un po' Il mostro Madonna che scandalo Ma son troppo forte Cioè veramente Io mi meraviglio Di me stesso Ma che spettacolo Che spettacolo signori Guarda qua Guarda qua Questo come ci vuole male Si deve morire Ok Ma non mi ha dato la kill Che brutta persona Chi è che me l'ha rubato Tu Questo quanto è lontano Aiuto Non l'ho preso mai Esploso Crepaci Sì Ma sono in 35 Ma sono un mostro No Non posso crederci Io sono fortissimo Dai vai vai Qui sono 2 2 2 Ma troppo forti Ma troppo forti Ma chi siamo Vai zizzi con la spada Entrambi in 35 C'è uno dietro Sinistra Sinistra Sta scappando Pezzo di merda No mi ha ucciso Ma siamo primo e secondo Ma siamo troppo forti Ma siamo troppo forti Ah Abbiamo perso No stavamo vincendo di uno Abbiamo perso Che sfiga Vabbè però voglio vedere Allora se ho fatto uno di ratio Io giuro che lascio il joystick Me ne vado A volte si vince Altre si perdono Ciao Non so che dire Ho letto 2.38 Io ho letto Veramente Dei buoni punteggi Vabbè Non ho più parole 17 kill 19 kill Fate voi Serie da 6 entrambi Multi uccisioni Quindi ragazzi Direi che Questa era la sfida di oggi Ovvero la sfida Only no scope Proponeteci qua sotto Nei commenti Se vi piace questo tipo di video Una sfida Da fare Un tipo di sfida da fare E se volete magari Potremmo invitare anche Magari qualche ospite Diciamo Per sfide future Detto questo Direi ragazzi Che se il video vi piaciuto Lasciate like Commentate Condividetelo Tutti quelli Conoscete che non conoscete Se è bellissima Seguiteci anche su Instagram Facebook Come ogni video Vi lasciamo qua sotto In descrizione E anche da bellissimo Noissimo Fantastissimo sito E detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao Io sono Gaud E la tua luce È mia Ciao